Entra nel vivo il progetto Atlantide 2, di cosa si tratta? Il progetto Atlantide 2 è la continuazione di Atlantide 1, un progetto per l'autismo in età adulta qui nel territorio di Ivre Canavese. Mentre Atlantide 2 si è occupato di una formazione a tappeto per gli operatori sul tema dell'autismo in età adulta, invece Atlantide 2 va proprio a lavorare con 13 ragazzi autistici ad alto funzionamento relativamente alla formazione e agli inserimenti lavorativi. Grazie anche alla collaborazione con Confindustria Canavese. Il valore di questo progetto è oltre di aver creato una rete territoriale di collaborazioni che vede l'associazione, vede la cooperativa Andi Rivieni, in particolare che siamo i promotori di questo progetto, ma vede anche come partner l'Asl, il centro di riferimento per l'autismo in età adulta del territorio e dell'Aslato 4, vede tutti i consorsi e vede anche Confindustria Canavese. Questo quindi è un progetto che ha il valore di aver creato un territorio fertile per poter far sviluppare le competenze e le opportunità per le persone autistiche in età adulta. E in maniera particolare il fatto di avere la possibilità di fare un percorso formativo e poi di essere inseriti all'interno di contesti lavorativi reali, dà l'opportunità, penso anche alla comunità lavorativa, di conoscere le particolari funzioni dell'autistico e del suo funzionamento neurodiverso, che non è necessariamente una disabilità, anzi è un'opportunità di avere accesso a alcune capacità che sono estranee alla mente neurotipica e che quindi permette loro di svolgere determinati lavori in maniera molto più funzionale e molto più produttiva. Quindi riscoprire che l'autismo è un valore, non è assolutamente qualcosa da cui occuparsi in maniera assistenziale, ma ridare dignità al loro percorso, sono persone intelligentissime, sono persone con un percorso cognitivo notevole, delle volte anche superiore e il percorso durerà circa sei mesi di inserimento lavorativo. Questo è un po' il nodo debole, perché queste occasioni lavorative sono a termine, però speriamo che appunto il mondo dell'imprenditoria scopra le loro qualità e capisca che assumerli, insomma, non è un peso ma è un valore aggiunto. La cooperativa Andirivieni curerà la parte logistica del progetto Atlantide 2? Sì, cooperativa Andirivieni, come già per Atlantide e Atlantide 3, che sono tutti quanti antecedenti di prosecuzione del progetto Atlantide 2, per ansa alla parte di logistica, coordinamento, progettazione e rendicontazione del progetto che, ricordiamo, è finanziato dalla Fondazione CRT. Ci occuperemo, ci siamo occupati della parte di progettazione e di formazione nello scorso mese di aprile, rivolto a tutto il territorio, sul ambito di lavoro e occupazione in materia di autismo adulto e ci occuperemo, in realtà, da ieri, della fase operativa. Quindi 13 persone selezionate dal polo diagnostico per l'autismo adulto di Castellamonte sono state inserite in questo corso pre-lavorativo a tutti gli effetti. Con le tre nostre dottoresse Viziale, Sartore e Tognoni, abbiamo iniziato questa formazione per queste 13 persone che durerà fino al 31 di maggio, dopodiché l'inserimento in aziende che, grazie al prezioso contributo di Confindustria, hanno accettato di ospitare in tirocinio queste 13 persone. Tirocini che sono stati attivati direttamente dall'ASL come ente promotore, attraverso PAS o TIS, a seconda del progetto individuale delle persone e che dureranno fino alla fine dell'anno, fino al 31 di dicembre. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS